E' venuta questa stronzata della speranza. Intanto stanotte comincio a portare le altre due, che se no le cose non vanno bene. Domani aspetto alla terza. Sacrifico! Sei l'unico essere umano che conosco. Se va avanti vuole partorire, è probabile che muro. Questa mi serve. E' mia. Il dottor qua ti aveva sempre detto che eri inutile sperare, invece... Tu perché non chiudi il cesso? Che io non tengo nessuna intenzione di abortire. Lei tu uccide? A me nessuno mi uccide. Ma quello che facevo prima non lo posso fare più. E' ancora il tempo... E' ancora il tempo... Rindo il cuore... Ecco che uno ti va bene e basta... E' una brutta fine. E' quando vero non c'è sta a ritorno... Il bene dei figli sono le mamme. Ecco che cosa muore ma resta... Resta... Nulla bella giornata... Nulla bella giornata... Grazie a tutti.